Ciao a tutti! Oggi vediamo questi oggetti un po' particolari. Si tratta di supporti per sostenere minerali, fossili, targhe, oggetti da collezione in genere. Vediamo che abbiamo due misure. In particolare il supportino piccolo è di 7 cm x 4 per un'altezza di 5,2 cm, mentre quello un po' più grande è di 10 x 6, altezza 8,5 cm. Vediamo come si monta. Si tratta di due pezzi, uno sarà la base e l'altro si va ad inserire ruotandolo leggermente e si posiziona come si preferisce. Mantenendolo più avanti si terrà l'oggetto più verticale, mentre spostandolo verso la parte più indietro si appoggerà. Poi dipende anche dalle dimensioni dell'oggetto che si vuole esporre. La parte davanti ha una linguetta che serve proprio per non far scivolare, non far spostare il minerale, il fossile o quello che si va a posizionare. Ecco, vediamo come si ruota verso la parte più esterna e andiamo a posizionare un minerale. Il minerale in questo modo potrà essere posizionato e messo in mostra con la parte davanti che si preferisce. Qui vediamo un minerale un po' più grosso appoggiato sul supportino della misura più grande. in particolare questo è un albite trovato in Lombardia. Vediamo anche lateralmente come resta appoggiato. in questo caso si tratta invece di cristalli di quarzo. e vediamo in particolare così è posizionato con un'angolazione abbastanza inclinata, però possiamo posizionarlo anche in modo più verticale spostando la parte verticale del supportino un po' più avanti. qui vediamo un bellissimo corallo il supporto è molto trasparente e resta comunque quasi completamente nascosto dall'oggetto che si va ad esporre quindi non disturba e non va a rovinare l'effetto del minerale, del fossile o della targa, può essere un quadretto può essere addirittura un orologio troverete sul nostro sito questi supportini abbiamo anche delle offerte per quantità di 10 pezzi e oltre a questi tanti altri accessori per le vostre collezioni sia scatoline trasparenti, supportini molto utili per esporre oggetti preziosi io vi saluto, vi ringrazio, ecco qui vedete la confezione da 10 pezzi e vi aspetto per i nostri prossimi video visitate il nostro sito elettronicadidattica.com per trovare tanti articoli adatti ai vostri hobby creativi vi saluto, a presto!